la seduta di igiene dentale si articola mediante diversi step il primo dei quali è sempre il controllo delle mucose interne del cavo rave poi si passa al controllo delle gengive mediante l'ausilio di uno strumento che prende il nome di sonda parodontale grazie a questo strumento l'igienista dentale si rende conto dello stato di salute delle gengive del paziente verrà poi colorata la placca batterica perché noi vogliamo che il paziente capisca laddove è presente il nostro nemico il biofilm la placca batterica e il tartaro verrà poi eliminata questa placca batterica e tartaro mediante l'ausilio di urette o d'ultrasuoni ultimamente abbiamo anche l'aiuto di uno strumento nuovo che prende il nome di profilassi master che ci aiuta ad eseguire delle sedute minimamente invasive una volta eseguita l'igiene orale professionale grazie ai nostri strumenti andremo poi ad applicare il fuoro e congederemo il paziente al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti